Sono Larry King e con me oggi c'è il dottor Michael Lightman. Ha un dottorato in filosofia e Kabbalah, professore di ontologia e dottore di medicina bioetica. Ha pubblicato più di 40 libri tradotti in 18 lingue. Grazie per essere con noi. Cos'è la Kabbalah? La Kabbalah è una scienza, non è una religione, non ha niente a che fare con la religione. È una scienza che aiuta a comprendere in che modo è costruito il mondo e in che modo esso viene governato dalla forza superiore dell'intera creazione. Fa parte della teologia ebraica? Non è una parte. È la base della teologia ebraica. È una scienza che ci arriva da Abramo, che la scoprì. E attraverso tutte le generazioni è arrivata a noi. La Kabbalah è stata occultata per migliaia di anni e solo recentemente, diciamo negli ultimi 200 anni, è stata rivelata. La Kabbalah è stata rivelata.